laudentur jesus maria amici amiche carissime una santa sera da tutti per chi segue la diretta e anche chi segue la differita bentornati con una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato al mistero di giuda lo studio della figura dell'apostolo traditore attraverso gli scritti di maria valtorta ho detto studio non a caso perché questo soggetto questo personaggio così come tante altre cose devono essere oggetti proprio di studio nel senso di indagini attenta per capire bene alcune cose evidentemente poi per trarne insegnamenti frutti tesori ricordo a quel principio di questa che dovrebbe essere la terza puntata di questo ciclo che gesù ha proprio dato la conoscenza di giuda del suo mistero e di tutto quanto il suo percorso potremmo chiamarlo involutivo come uno dei fini principali tra i sette per cui ha dato l'opera quindi è un lavoro a tortiano ovviamente è una delle delle cose davvero importanti che vale la pena fare la volta scorsa ci siamo fermati con giuda che insiste nell'essere accolto tra i discepoli di gesù gesù che cerca di fare il possibile per stimolare la sua libera riflessione a ponderare ulteriormente come già aveva fatto in occasione del primo incontro ma giuda ostinato dice no no io vengo pensato e poi la conclusione era un pochino amare nel senso che quando giuda ha detto che sarebbe stato l'avrebbe seguito fino alla morte gesù disse mestamente dice sì sì questo fino alla morte questo purtroppo è vero mi seguirai fino alla morte e sappiamo bene insomma evidentemente noi che sappiamo andata la storia il senso con cui Gesù diceva questa espressione non mi dilungo in eccessive introduzioni e passo alla lettura di questa terza parte possiamo chiamarlo terzo capitoletto che si intitola vuole servire Gesù e farlo presso la porta dei pesci il giorno dopo due uomini si azzuffano fino a sfilare da sotto le vesti due coltellacci Gesù interviene tra le urla terrorizzate della folla non riuscendo a fermare gli infuriati duellanti e rischiando di essere di stesso colpito Gesù sprigiona a forza di miracolo facendo cadere a terra le lame sbriciolate ricordo bene questo episodio e ora chiede Gesù severo dov'è la vostra forza anche i soldati riguardi alla porta accorsi agli ultimi urli guardano stupiti ed uno si china a raccattare i frammenti delle lame e li prova sull'unghia incredulo che fossero acciaio e ora ripete Gesù dov'è la vostra forza su che fondavate il vostro diritto su quei pezzi di metallo che ora sono schegge fra la polvere su quei pezzi di metallo che non avevano altra forza di quella del peccato di ira contro un fratello levandovi per quel peccato ogni benedizione di Dio e perciò ogni forza o miseri coloro che si fondano su mezzi umani per vincere e non sanno che non è violenza ma santità quello che ci fa vittoriosi sulla terra e oltre perché Dio è con i giusti udite tutti voi o Israele e anche voi soldati di Roma la parola di Dio parla per tutti i figli dell'uomo e non sarà il figlio dell'uomo quello che la ricusa ai gentili il secondo dei precetti del Signore è precetto di amore verso il prossimo Dio è buono e nei suoi figli vuole benevolenza colui che non è benevolente col prossimo suo non può dirsi figlio di Dio e non può avere Dio con sé l'uomo non è una bestia senza ragione che si avventa e morde per diritto di preda l'uomo ha una ragione e un'anima per la ragione si deve saper condurre da uomo per l'anima si deve saper condurre da santo colui che così non fa si mette al di sotto degli animali scende all'abbraccio coi demoni perché si indemonia l'anima col peccato d'ira amate io non vi dico altro amate il prossimo come il Signore Dio di Israele vuole non siate sempre del sangue di Caino e perché lo siete per poche monete voi che potevate essere omicidi per pochi palmi di terra altri per un posto più buono per una donna che sono queste cose? eterne? no durano molto meno della vita la quale dura un attimo di eternità e che perdete se le seguite? la pace eterna che è promessa ai giusti e che il Messia vi porterà insieme al suo regno venite sulla via della verità seguite la voce di Dio amatevi siate onesti siate onesti continenti siate umili e giusti andate e meditate lo vedi maestro tutto Israele ti ama è giusto che tu resti anche qui perché ti sottrai non mi sottraggo Giuda sono venuto apposta solo perché la rudezza dei discepoli Galilei non urti la sottigliezza giudea io voglio radunare tutte le pecore di Israele sotto lo scettro di Dio per questo ti ho detto prendimi io sono giudeo e so come trattare i miei pari resterai dunque a Gerusalemme pochi giorni per attendere un discepolo lui pure giudeo poi andrò per la Giudea oh io verrò con te ti accompagnerò verrai nel mio paese ti porterò a casa mia verrai maestro verrò del Battista tu che sei giudeo e vivi presso i potenti sai nulla so che è ancora in prigione ma lo voglio scarcerare perché la folla minaccia sedizione se non le viene reso il suo profeta lo conosci? lo conosco lo ami? che pensi di lui? penso che non vi fu uno più di lui pari a Delia lo reputi veramente il precursore? egli lo è è la stella del mattino che annuncia il sole beati quelli che si sono preparati al sole attraverso la sua predicazione è molto severo Giovanni non più per gli altri che per sé questo è vero ma è difficile seguirlo nella sua penitenza tu sei più buono ed è facile amarti eppure eppure maestro eppure come lui è odiato per la sua austerità io lo sarò per la mia bontà perché l'una e l'altra predicano Dio e Dio è in viso ai tristi ma è segnato che così sia come egli precede me nella predicazione così mi precederà nella morte guai però agli uccisori della penitenza con la B maiuscola e della bontà con la B maiuscola perché maestro sempre questa tristezza di previsioni la folla ti ama lo vedi perché cosa si cura la folla umile sì mi ama ma la folla non è tutta umile di umili ma non è tristezza la mia è tranquillità è tranquilla visione del futuro e aderenza alla volontà del padre che mi ha mandato per questo e per questo io sono venuto eccoci al tempio io vado nel bel Nidrash ad ammaestrare le folle se vuoi resta resterò al tuo fianco non ho che uno scopo servirti e farti trionfare entrò nel tempio e tutto finisce bene questo è il primo degli episodi probabilmente faremo in tempo vediamo anche a leggerne a meditarne un altro qualche parola di commento sia all'antefatto del dialogo tra Giuda e Gesù che era appunto questa rissa era un duello a sangue Gesù intervenne per sedare questo duello a sangue con un miracolo invece spaccare le lame dei contendenti questo episodio è riportato con molta dovizia di dettagli appunto nell'opera Gesù chiaramente fa un commento sui suoi ovviamente dove cerca di esortare questi due a relativizzare le realtà mondane terrene anche l'ebbrezza che deriva dall'illusione della potenza che viene dall'uso della della violenza con le considerazioni molto adatte al tempo di quaresima che stiamo vivendo ma dovrebbero accompagnarci costantemente nella vita sulla brevità della vita terrena un attimo di eternità in cui però ci andiamo a decidere in questo attimo di eternità la nostra e per cui prima di fare certe cose e di appunto ridursi al rango delle bestie senza ragione che sbranano chi in qualunque modo si oppone ai loro desideri o brame sarebbe bene pensare perché se si fa così ci si mette al di sotto degli animali scende all'abbraccio con i demoni perché si indemone l'animo col peccato d'ira e Gesù dà una grande massima per la ragione si deve saper condurre da uomo e per l'anima si deve saper condurre da santo non è certamente con la violenza che si diventa che ci si impone e che si trionfa ma con la santità quindi questo è la grande è la grande lezione di questo episodio a questo punto si inserisce il dialogo tra Gesù e Giuda perché chiaramente dopo questo episodio tutta la folla è impressionata e osannante e Giuda era molto colpito era sempre molto estasiato sarei a dire ipnotizzato ecco forse il termine adatto dai momenti in cui Gesù riscuoteva il grande successo delle folle la frase conclusiva sono qui per servirti e per farti trionfare fa subito comprendere la sua mania la sua smania Giuda voleva fondamentalmente essere uno che si metteva a fare chiameremo oggi il portaborse di colui che pensava essere il grande dominatore il grande trionfatore il grande nuovo Davide e poi una volta incoronato re e messia quindi osannato e innalzato ricoperto di un'ora di gloria sperare di avere dopo che ti ho spavigliato che ti ho aiutato che ti ho servito un posto d'onore nella futura corte terrena del messia trionfatore tutto qui ecco il problema di Giuda sotto questo punto di vista vedremo che non è tutto qui perché sapete che ci sono le tre grandi bestie idolatriche che attalagnano uomo e che sono le tre S o le tre P potere piacere possedere sesso soldi successo impareremo e vedremo proprio in maniera assolutamente la parissiana come queste tre cose erano completamente presenti nel cuore di Giuda e purtroppo siccome Giuda era uno dei dodici queste tre problematiche quindi potere quindi il potere potere fa gola i soldi fanno gola e i piaceri fanno gola e purtroppo non dobbiamo stupirci se a volte si vedono queste cose lì dove noi ci aspetteremmo che non si dovrebbero vedere anche il nostro Signore non vuole vederle in certi posti ma purtroppo Giuda era uno dei dodici se noi non siamo attenti e non necessitiamo una grande vigilanza nei confronti di noi stessi nessuno di noi è indenne dal pericolo e dal fascino di questi maledetti idoli nessuno è al sicuro perché sono la sostanza dei primi tre vizi capitali la superbia l'avarizia e la lussuria è sempre la stessa cosa perché il potere il successo è superbia l'attaccamento ai soldi quindi l'invildo ai soldi e avarizia e le donne che piacevano molto a Giuda è lussuria appunto siamo in tempo di quaresima quali sono le tre opere penitenziari la preghiera il digiuno e le mosine giusto? la preghiera è contro la superbia perché la preghiera è una persona somiglia non è che si esalta infatti quelli che cercano tanto il potere pregano poco pregano l'avarizia come si combatte con le mosine e l'ossuria come si combatte con il digiuno perché la chiesa ci esorta in continuazione a fare queste cose perché nessuno di noi è esente da questi pericoli nessuno si sente a me del potere non me ne importa niente sicuro il potere non è sempre avere chissà quale grande carica che essere presidente degli Stati Uniti o essere papa noi cerchiamo il potere anche le nostre cose molto molto più piccole io da parroco un po' navigato fortunatamente sono stato fortunato nel senso che non mi sono capitato in parrocchie dove c'erano centri di potere ma guardate che in alcune parrocchie non si può campare non si può un parroco non può campare perché c'è quella certa zona che è gestita dal barone 1 qua c'è quell'altra zona che è gestita dalla baronessa 2 untouchable non li puoi toccare e ovviamente non li puoi indirizzare non li puoi governare sono mostri creati da qualche pittoresco e particolare predecessore e se te li ritrovi non è che bisogna andare tanto lontano per cercare le scrate al potere no? i soldi i figli sono una brutta bestia per tutti ricchi e poveri per tutti anche per i poveri perché è vero che l'avarizia è un peccato è un vizio da cui devono fare particolare attenzione i ricchi però l'avidità quindi perché l'avarizia è la tendenza all'accumulo e quindi a non volerli cacciare fuori i soldi però c'è anche l'avidità che è il desiderio smutato di averli quando questo è una cosa che è molto frequente quando uno non ce l'ha un povero che manda gli accidenti ai ricchi e gli dice potopozza non ha tutti in medicina che non si deve dire non è diciamo così quell'esemplare di povertà evangelica che l'ho da Gesù dicendo beati voi poveri perché vostro è l'unione dei cieli no quello è povero di fatto ma non è povero di spirito non è un merito non avere mezzi non è una virtù capite no la povertà materiale in sé non è una virtù è una virtù però povertà evangelica la povertà evangelica può essere vissuta come è stato per Gesù e per Maria con la massima perfezione quando c'è anche la povertà materiale però vissuta in un certo modo ma guardate che la povertà evangelica può essere praticata non vi scandalizzate anche da un ricco l'azzarone è un esempio no? il ricco la pratica che è chiaramente largheggiando nell'emosina non essendo attaccato eccessivamente al denaro e facendo un uso sano sabio e saggio dei mezzi che gli ha dato l'ultima cosa la lussuria e poi la sua sorella minore ma manco troppo la gola tu dici ah no io sono convertito non faccio più i peccati impuri facciamo finta che va bene anzi in molti va bene io conosco tante persone che i peccati impuri non li fanno non è vero che si fanno le forze i peccati impuri non è assolutamente vero ci sono persone viziose che smettono e che quelle cose non le fanno più ci mettono una bella pietra tombale sopra per l'aiuto della grazia di Dio certamente corroborata dalla buona volontà si chiude con certe cose però dobbiamo fare attenzione anche a quell'altra cosa che è la gola perché anche la gola è un vizio carnale il digiuno di per sé è formalmente proprio direttamente contrario al vizio della gola dice allora per la russuria dico meglio che non le dico le penitenze formalmente atte a riparare i peccati di lussuria però se uno legge un po' sulla passione di nostro signore ci penso un po' e fa un po' di 2 più 2 uguale 4 2 più 3 uguale 6 e 4 più 4 uguale 8 ci potrebbe arrivare quindi mi raccomando nessuno si senta al sicuro perché nessuno di noi è al sicuro non dobbiamo vivere come dire nell'ansia nell'angoscia nella paura perché gli amici di Gesù quelli che ci provano quelli che cercano di camminare devono essere come dire speranzosi sereni ottimisti perché lui è dalla parte nostra Gesù vuole portarci con sé in paradiso questo è in dubbio per quanto sta in lui quindi se noi ci mettiamo la buona volontà possiamo sperare insomma che almeno all'inferno non ci andiamo a finire il che insomma è già un grande traguardo per quanto mi riguarda no? ecco però ricordiamo sempre il monito di San Paolo attendete alla vostra salvezza con timore e tremore quindi mantenendo sempre questa questa sana tensione e vediamo adesso un po' il dialogo tra Gesù e Giuda in particolare è molto bello quello che si dicono a proposito quando Gesù fa la domanda su San Giovanni Battista bellissimo la penitenza la penitenza con la P maiuscola e la bontà vorrei anche qui invitare un pochino la riflessione su questo è il precursore San Giovanni Battista certo che è il precursore lo è al 100% e il precursore è stato caratterizzato appunto da questa penitenza estrema e da questa serenità dice severo di San Giovanni Battista bellissimo risposto anche di Gesù non più con gli altri che con se stesso vuole essere severo poi deve stare attento a non farsi cogliere in fallo perché tu non è che puoi fare il severo l'integgerrimo e poi ti beccano che stai facendo il contrario di quello che dici quindi la coerenza la testimonianza però è più bello appresa te che sei buono però la bontà è preceduta dalla penitenza con la P maiuscola se noi facciamo attenzione anche nel modo con cui Dio si è liberato Dio si è liberato così non c'è stata prima la misericordia e poi la severità prima la misericordia e poi la giustizia prima la bontà e poi la severità no ma il contrario il contrario questo vale anche guardate che oggi noi viviamo in un mondo l'ho detto altre volte in un mondo alla San Pietro crocifisso al sul collo Vaticano al circo di Nerone sapete che si è fatto crocifiggere a testa in basso quindi al contrario per vedere il mondo al contrario come lo vedono i pagani perfetto oggi noi stiamo in un mondo che è completamente al contrario cioè riguardo questo punto la penitenza che precede la bontà la severità che precede la dolcezza guardate in giro cosa sta succedendo alle nuove generazioni io ho anche detto in chiesa domenica scorsa cioè cominciamo a stare in stato di allarme rosso per quanto riguarda i ragazzini che non hanno più nessun tipo di freno cioè dire maleducati adesso è diventato dire un eufemismo e come mai ho detto tante volte in tanti contesti che padre più amava dire amava dire solepa dire poco prima di morire verrà una generazione di genitori incapaci di educare i propri figli non vorrei essere nei panni dei vostri nipoti come si educa un ragazzino vediamo adesso sono stati i grandi pedagoghi degli anni settanta i grandi dottoroni i grandi intelligentoni eccetera eccetera come si educa cosa dice la scrittura sull'educazione di un ragazzino a proposito oggi è martedì domani sera ci sarà l'incontro biblico come catechesi e andremo a vedere il libro del Siracide quarta caso proprio nel Siracide ci sono i passaggi che io sto dicendo se vede un passaggio del libro del Siracide se lo dicesse qualcuno oggi portano lo portano in galera probabilmente e se potessero andare a riprendere ben Siracide che è morto lo possesserebbero per istigazione a a non so cosa perché veramente nel libro del Siracide si è scritto che se ha chiama il proprio figlio usa il bastone magari possiamo usare la bacchetta che usava un'ottima est il bastone con il bastone magari tendeva un bastoncino insomma perché devi spaccare il cranio al figlio capiamo no? però qual è il senso di questa frase? che l'educazione dei figli deve necessariamente essere severa come era un tempo io la buonanima di mia mamma devo non so che cioè devo andare a fare i pellegrinaggi e andiamo bene perché se io non avessi avuto la severità di mia madre io non so che fine avrei fatto per il tipo che sono per il carattere che ho cioè chi mi ha salvato è stato quello ma se io non avessi avuto quel rigore quella addirittura anche tutte le mazzate che ho preso quando ero vicino benedette mazzate chi lo sa che fine avrei fatto non possiamo noi confondere l'amore e la carità con la mollezza e la debolezza un ragazzino non può per nessun motivo rispondere a tono a un genitore non gli si deve permettere una cosa del genere meno che mai può mandarla a quel paese ma io le ho viste e sentite certe cose e i genitori dovrebbero prendersi una roba del genere passivamente senza dire manco più ma che è sta roba il mantra i bambini non si picchiano allora è ovvio che c'è del vero in questa frase ok non è che uno picchia così o che fa del picchiare il metodo educativo ordinario quindi meno dalla mattina alla sera qualcosa succede no nessuno sta dicendo robe di questo genere o tanto meno che si debba usare la violenza o tanto meno ancora che si debba far male no ma c'è un posto un posticino dove la schiena cambia nome e quello è un posto innocuo d'accordo se si prende qualche bottarella lì con qualche palle non succede niente c'è soltanto un pochino di arrossamento momentaneo oltre che la mortificazione quindi non c'è nessuna compromissione della salute eccetera ma se non se non si è padroni della situazione capite che se un ragazzino capisce che si può mettere sotto i piedi un genitore ma come tratterà poi la gente come tratterà gli amici come tratterà i professori come tratterà il parroco come tratterà domani la moglie o il marito vedete Giuda che bello venire con te a Giuda non piace San Giovanni Battista è ovvio e quindi è anche vedete l'episodio come dire l'emblema di chi vuole passare di chi vuole fare il jump quindi io jumpo direttamente alla bontà e all'amore niente penitenza niente severità non funziona così non funziona così da nessuna parte peraltro funziona così gli addestramenti militari almeno un tempo cioè tu quando arrivavi non c'era nessuna pietà ti stroncavano se lo superi lo superi se no te ne vai a casa perché non sei adatto cioè mamma mia è mamma tua quindi attenzione alla mentalità di Giuda quindi tutto amore e misericordia niente penitenza niente severità niente giustizia Giuda generalmente chi ha questa mentalità mi devo stare zitto mi devo stare perché chi sta sempre un po' troppo a parlare chi fa il jump è perché generalmente o c'ha la doppia vita Giuda ce l'aveva lo vedremo o c'ha gli scheletri nell'armadio quindi in ogni caso uno che pensa di poter bypassare i necessari conti che si devono fare con la divina giustizia perché si devono fare e allora per evitare si comincia ad esaltare in maniera spropositata in debita misericordia 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 dimenticando che c'è un ordine una taxis la chiamavano i santi padri quindi prima la penitenza poi la bontà Dio nell'antico testamento si è rivelato in un certo modo se uno si può leggere nell'esodo le teofanie il Sinai quando è sceso Mosea dice oh mi raccomando di a Dio che non si manifesta più no no non c'è veditela tu veditela quelli stavano terrorizzati le falde del monte Sinai dopo che Mosea ha fatto 40 giorni di digiuno lampi fuori suoni di tromba assordanti sono cose che sono successe non è una narrazione mitica quella che si legge quelle cose sono successe veramente è la Dio che si è manifestato perché capite tale da incutere un santo timore reverenziale no un insegnante un professore un maestro com'è che si pone se si pone a fare l'amicone è la fine cioè tu quando ti presenti devi incutere un certo timore reverenziale quando questo c'è dopo puoi anche allentare un po' ma dopo ma dopo non prima perché se lo fai prima è la fine è la fine e per quanto mi riguarda lo faccio anch'io non mi importa niente se qualcuno cioè è il titolare della della funzione di autorità che non le deve permettere certe cose non le deve permettere un genitore non può permettere a un figlio certi atteggiamenti non può e non deve un professore non può permettere certi atteggiamenti agli alunni e deve mettere immediatamente le carte in chiaro io dico anche un sacerdote un ministro di Dio non può e non deve cioè avere la riverenza non vuol dire avere la distanza no assolutamente così come tra virgolette incutere un certo timore non vuol dire abdicare al proprio ruolo o dovere di pastore di carità di prossimità di vicinanza non è questo non sono cose da concepire incontraddittorio vedete quando uno comincia a concepire incontraddittorio queste cose è la stessa cosa che accade quando non si riesce a conciliare la giustizia con la misericordia si dice a Dio se è giusto non è misericordioso non può essere misericordioso e se è misericordioso non può essere giusto non è vero perché Dio è giusto è misericordioso è entrambe le cose io atteggiamenti confidenziali o da amiconi per esempio con un sacerdote non si devono avere io non li permetto assolutamente si vuole pensare è superbo va bene pensa che uno è superbo io lo so bene la motivazione per cui non si tratta di superbia si tratta di salvaguardia della possibilità di esercitare il ministero e la missione che io devo esercitare e che richiede un certo campo relazionale impostato su certi parametri necessari se no tu non puoi fare quello che devi fare un genitore non è l'amico del figlio questo è un altro mantra che io mi ricordo già quando ero piccino io andava andava di moda c'erano alcuni miei amici che dicevano ah mio padre che io sono il suo amico o addirittura chiamavano il padre e la madre qualcuno per nome per nome cioè Raffaele Francesca non ho capito bene l'ultima sillama Raffaele Francesca ma sapete che la moda di chiamare per nome guarda caso andava anche con i sacerdoti no ci sono ambienti ecclesiali movimenti ecclesiali dove il sacerdote rigorosamente chiamato per nome senza padre e senza donna e li si dà del tu ma dico ma stiamo scherzando e questo viene scambiato questo ma che bello questa è la vita fraterna siamo tutti uguali ho detto questo è l'immagine del mondo a rovescia a rovescia ma guardiamoci un pochino intorno io dico vabbè non lo leggiamo l'altro brano finiamo no la finiamo qui allora io penso che a volte bisognerebbe avere a tutti i livelli un pochino di onestà intellettuale perché quando ci sono dei cambiamenti di stile di prospettiva di azione uno cambia perché pensa che prima le cose erano fatte male adesso le facciamo meglio ok a me può mi può anche stare bene una cosa di questo genere ad una condizione però che dopo di andare a fare le verifiche io credo che gli esperti di strategie aziendali o di marketing o cose di questo genere sapranno insomma se c'è un'azienda che sta andando a scatafascio bisogna per forza fare un piano di risanamento o qualcosa del genere giusto? se l'azienda si riprende vuol dire che il piano ha funzionato se l'azienda finisce di andare a scatafascio anzi sta peggio di prima il piano non ha funzionato giusto? se queste nuove metodi educative di pedagogisti in piccia e imbrogli funzionassero dovremmo vedere una gioventù meravigliosa no? non la vedo soltanto io o non c'è perché quasi pure io sono malato di mente e quindi non la vedo io perché qui siamo siamo in mezzo a una gioventù sono ragazzi meravigliosi educatissimi a modo non li vedi soltanto tu magari posso anche dirlo alla romana però è un po' più magara insomma non è tanto non è tanto fine no? lo vedo solo io problemi ecclesiali i mantra i mantra indiscutibili io un giorno o l'altro ma non so se mi capiterà in qualche assemblea di quelle che si fanno ogni tanto sapete tra i preti tra i vescovi dove c'è sempre sempre la stessa musica ripeto come sappiamo bene la chiesa sta tuttora adesso passando un momento insomma abbastanza complicato no? quindi svuotamenti delle chiese frequenza sempre bene tante riforme che sono state fatte negli anni passati a quanto raccontano sono state fatte perché la chiesa stava entrando in crisi la gente se ne stava andando adesso dobbiamo trovare una soluzione proviamo facciamo la messa un po' più caruccia un po' più un po' più accattivante un po' più quindi parliamo in italiano facciamo un po' di canzonette così vengono i giovani con 4 c alla alla tedesca noi giovani ecco così così attiviamo i giovani ecco e anche le persone che la vengono così rispondono partecipano va bene vogliamo provare questo qui io non è stato d'accordo però se la maggioranza dice di farlo va bene poi però facciamo la verifica no attenzione la verifica non si fa o se proprio si accenna no non è che non ha funzionato è che non hanno capito qui o meglio non l'abbiamo ancora fatto bene dobbiamo farlo un po' meglio perché non l'hanno capito io quando vedo e quando sento certe cose non lo so che cosa fare perché la cosa migliore penso che sia stare zitti e mettersi in preghiera se no poi mi devo confessare tutti i giorni è questa la la diagnosi giù dell'emblema del mondo alla rovescia bel titolo per questo l'emblema del mondo alla rovescia invertito e se il mondo è la rovescia il mondo è la rovescia figli miei cari te gasca addosso te si sfracella addosso cioè non abbiamo dinanzi alle cose oggettive questa è un'altra cosa che questo adesso non voglio essere se si attacco finiamo alle quattro cioè dico soltanto questo qui queste cose che noi vediamo sono figlie di un ben preciso mutamento epocale a livello filosofico sapete da dove viene la maleducazione dei ragazzini sapete da dove viene da cogito ergo sum ah stasera Don Leonardo pure se è quarantissima si è fatto un goccetto nonno viene da cogito ergo sum cogito ergo sum oh è successo nel 1600 perché le radici di quello che stiamo avendo sono abbastanza lontani cogito ergo sum è il rovesciamento della realtà perché secondo San Tommaso non è cogito ergo sum ma è sum ergo cogito ma queste sono questione astratte filosofiche no 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 che significa questo qui se io dico io sono quindi penso vuol dire che l'essere quindi la realtà oggettiva delle cose precede il mio pensarla quindi il mio pensare è finalizzato a scoprire l'ordine oggettivo delle cose che non l'ho stabilito io l'ha stabilito il creatore e a cui io mi devo semplicemente adeguare infatti secondo San Tommaso la conoscenza e l'adeguatio rei et intellectus cioè la mia testa si adegua conoscendola oggettivamente alla realtà delle cose ne prende atto e si regola di conseguenza sapete che cos'è cogito ergo sum che non è che io prendo atto della realtà ma è la realtà che prende atto di me sono io che decido quello che c'è quello che non c'è quello che è bene quello che è male quello che è vero quello che fa cogito ergo sum da qui vengono le famose ideologie sapete che cos'è un'ideologia cioè io mi faccio un'idea di come debbano andare le cose e quella è l'idea giusta e la impongo agli altri nazismi fascismi comunismi questo sono ma questa cosa adesso sta anche dalle parti nostre sta anche dentro la chiesa questa cosa qui cioè qui non stiamo più guardando guardiamo agli insegnamenti dei padri guardiamo al vangelo guardiamo alla dottrina guardiamo alla tradizione ne prendiamo atto e andiamo no no dobbiamo reinventarci qualcosa perché le vecchie categorie sono diventate obsolete non siamo più e qui dobbiamo reinventarci qualcosa quindi tu ti reinventi qualcosa a immagine e somiglianza della testa tua e magari la pure non dico imponi ma quasi come norma tutti i quali è il discorso che ho fatto prima che cos'è l'educazione di un ragazzino te lo inventi tu come come si educa un ragazzino oppure prendi atto un ragazzino è un bimbo che non ha ancora perfettamente l'uso della ragione ed ha la ferita del peccato originale un ragazzino non è in grado di comprendere perfettamente un ragionamento con un adulto è chiaro che tu le cose le devi cercare di far capire le devi spiegare ma l'intelligenza di un bambino è limitata ed è anche inficiata quindi è indispensabile in alcuni momenti dover intervenire esercitando l'autorità perché il bambino non è non è a parte che non è in grado di capire le certe cose non è neanche in grado di adeguarvi perché è piccolo ancora quindi se tu devi dare una dirittura in qualche modo se non gliela dai è la fine questo è semplicemente buon senso il riconoscimento della realtà oggettiva delle cose con Giuda siamo andati molto lontano però attenzione a essere attenti all'inversione a guardare il mondo al contrario e a pensare che il mondo possa adeguarsi alla visione distorta che ne ho io fermiamoci l'autorità di Gesù e di Maria e che Dio vi benedica e la Santa Vergina vi protegga